Dubbi di titolarità e di legittimità per quanto riguarda questa vendita, oggi la denuncia arriva dall'API. Sì, segnaliamo attraverso una nota all'amministrazione comunale, al sindaco Brucchi, al governatore della regione, al commissario dell'Arap, affinché rientro nel merito dell'asta che è stata pubblicata qualche giorno fa sul sito dell'Arap per la vendita di terreni della Velleroi. I 12 troviamo adesso, terreni allora donati, mi riferisco a atti del 54-55 dell'allora amministrazione comunale, donati al signor Potidorandi, qui c'era la spica, per una finità modale ben precisa, quella della realizzazione di una fabbrica per fini sociali e su alcuni terreni vincoli perenni di utilizzo per quel fine. Quindi oggi noi siamo convinti o quantomeno stiamo chiedendo di accertare se il passaggio sia possibile che qualcuno possa vendere terreni di natura pubblica con vincolo modale o quantomeno se ciò fosse possibile riteniamo che quei soldi debbano essere investiti sul territorio. Questo è un fatto fondamentale. Qualora il passaggio è possibile, è opportuno che questa società, allora donato questi terreni, ne torna almeno all'interno in termini economici. Fateci capire se questo passaggio è corretto, perché negli atti pubblicati non risultano gli atti iniziali del passaggio dei terreni.